bene fermete un giro un attimo stop vai vai potesse funzionare così bello questo editor però non riesce a scaricarlo non danno le istruzioni suficienti quando lo fai il giro dando il prego a 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